Questo corso è un fiume in piena, il più completo, molto approfondito, mi sembra di vivere un sogno, professionale al massimo, determinante, pratico, ordinario, mi ha aperto la mente, un'ottima scuola di vita, assoluto, ho deciso di investire su me stessa, volevo una vera formazione, completo. Essendo il mio primo corso di wedding ho preferito scegliere il migliore. Emozionante. Un'ottimo corso che dà veramente un'informazione corretta di cosa significa wedding plan. Cira è unica. L'originalità di questo tavolo sono i tovaglioli dipinti. Una donna carismatica. Quale scegliere come corso se non quello di Cira, non ma? Cira è una grande imprenditrice. La trasmette tante emozioni. Una persona straordinaria. Tanto interesse nel suo lavoro che non se lo tiene per sé. Secondo me è la numero uno del wedding. Cira mi ha trasmesso tanto amore. Grinta. Trasuda proprio la voglia di fare qualcosa di bello. Importante. Coinvolge e trasporta via tutti i consegni.